Solo noi sappiamo come abbiamo passato, trascorso, non so come si dice questa settimana, siamo stati allenati nei condizioni come questa settimana, sono stati veramente non piacevoli, però comunque vada nello sport abbiamo cercato di andare avanti senza pensare a quello che farà a Monza o a differenza dei set, volevamo solo vincere e giocare bene anche se la situazione era difficile, l'abbiamo fatto. Tornando sulla partita stasera, mi ha prometto scusa, siete state brave perché non era facile rimanere lì con la testa ma avete giocato con una buona gara, dove secondo testa soprattutto avete vinto questa partita? Abbiamo giocato per ogni palone, poi mi fa piacere anche questa terza gara a casa che abbiamo vinto, anche questo volevo dare una soddisfazione per tutta questa gente che non ha volato e che è venuta a vederci, siamo stati sempre lì, abbiamo fatto solo il nostro gioco, sempre quasi semplice.